La Pasqua del Pino In poco più di 13 con Palomadasolo all'avanguardia, Palomadasolo su Pernel B, in terza posizione il numero 4 Playsman, poi all'esterno Pasqua del Pino. Passaggio davanti alle tribune dopo il quarto iniziale in 29.7, progredisce Pasqua del Pino che si presenta a lato della leader Palomadasolo. Palomadasolo e Pasqua del Pino in linea, poi Pernel B con lato Peppere di Casei, per corsi esterni intanto prova a migliorare Pinot, Noir, Cosmos che ha però davanti la favorita. Puzzichet in, sempre in vantaggio Palomadasolo, Palomadasolo avanti a Pernel B, poi sempre per corsi esterni Pasqua del Pino, quindi Playsman con i fuori per Perdi Casei, poi Pellet va con lato Puzzichet in. 15.8 per il chilometro, sempre in vantaggio Palomadasolo, in seconda Playsman, cede Pasqua del Pino, all'argo, prova a progredire la favorita. Puzzichet in, sbaglia Perna LB, Palomadasolo avanti a Playsman, poi Puzzichet in, protesa all'argo, completamento della piegata, ingresso in addirittura con Palomadasolo che sta allungando, intanto sbaglia Peppere di Casei, in chiara evidenza Palomadasolo, Palomadasolo in evidenza per la seconda, migliora anche Perta S. e allora sul traguardo Palomadasolo, su Perta S e Puzzichet in, molto vicine tra loro per il secondo posto, avanti a Playsman.